Si tornerà a parlare anche di Raffaele Urbinas, questa mostra, si è parlato tanto, sono state tante le richieste fatte, chiarimenti richiesti, qual è la situazione al momento di questa installazione? L'installazione è una mostra, ma che non è una mostra, è un arredo, sono delle riproduzioni che noi abbiamo scelto di fare, l'ho detto mille volte ormai, facendo prima fare il preventivo della mostra impossibile che è stata istituita nelle Marche, non era alla nostra portata, quindi non è che noi non abbiamo fatto dei preventivi come ha detto il consigliere del capogruppo Grispini, ma bensì noi abbiamo chiesto i preventivi, prima formali, poi ad altre ditte, ma questa era l'unica ditta che aveva la possibilità, aveva già le autorizzazioni dalle proprietari dei quadri, quindi l'intenzione è quella di fare altre riproduzioni per completare, diciamo, questa, che non voglio chiamare una mostra, questo allestimento nel legato al Bani proprio per dare la possibilità a tutti i visitatori, soprattutto i bambini dal punto di vista didattico, di vedere le opere che Raffaello ha realizzato, anche se in copia. In copia che non sono fotocopie, sono riproduzioni in forma digitale, praticamente due di e mezzo, sicuramente adesso non mi veniva, che per me, arabo, i nostri tecnici abbondantemente hanno verificato che effettivamente valgono più di quello che l'abbiamo pagato, ma comunque sono stati fatti i preventivi. Quindi continuano a parlare di questa cosa perché ovviamente nessuno di noi cittadini sa quanto valgono questi prodotti, quindi chiaramente magari è facile fare la polemica su una cosa come questa, però noi continueremo perché questo è un obiettivo che dobbiamo raggiungere e anche altri progetti che sono qui proprio al Collegio Raffaello dove siamo oggi. Una battuta sulla discarica di riceci, un tema ancora all'ordine del giorno, se ne è parlato veramente da pochissimo, riguardo alla discarica, qual è il parere del Comune di Urbino? Il parere noi l'abbiamo dato di niego in quel luogo, ma come ha detto il Sindaco di Pesaro, con mia sorpresa, dobbiamo trovare una soluzione che non sia quella, perché quella abbiamo detto che non va bene, l'abbiamo detto tutti, continuano a dare la responsabilità a Gambini perché faceva comodo politicamente, io ho detto che comunque l'impianto serve o a Fano, o a Pesaro, o a Borgo Pace, non perché lo vogliamo fare a Borgo Pace, dico delle cose assurde, però l'impianto serve perché serve all'impresa, serve. Fino a quando non si farà il termovolizzatore, la speranza che il termovolizzatore passi presto nel programma regionale e che veramente si vada avanti col termovolizzatore, anche se comunque la discarica, comunque una parte in discarica ci vanno i rifiuti. Tra i temi all'ordine del giorno anche quello che riguarda il petriccio, cosa riguardo quest'area? Sì, chiaramente farò un'informativa in consiglio comunale perché sono state dette tante, le voglio chiamare con una pola brutta, tante bestialità, cioè che non sono state fatte le valutazioni, che non sono stati fatti gli atti, che l'università e il comune di Urbino sono due enti che fanno così, gli atti senza fare gli atti, senza fare le valutazioni. Oggi stilerò tutte le delibere che sono state fatte, le valutazioni dei tecnici, tutta la questione della permuta e tutta la storia, perché non è che uno può prendere un pezzo di dieci delibere, ne prende una e dice, ah, perché questa dice così, ma c'è il richiamo, le delibere di prima, quindi ecco, bisogna che questa cosa venga chiarita bene. Non ho volutamente risposto nella stampa, perché i giornalisti, giustamente come voi, devono apprendere la storia intera, non un pezzettino, perché se ogni cosa tu ne prendi un pezzettino, quello che ti pare, dà tutto un altro risultato. Invece, siccome la cosa è stata veramente una cosa fatta bene, messa molto bene, perché chiaramente credo che sviluppa l'università e il turismo per quanto riguarda le attività del comune, quindi credo che vada chiarita bene questa cosa. Sempre per quanto riguarda i fondi che vengono stanziati, con avviare azioni di bilancio, per quanto riguarda gli eventi, l'opposizione contesta questa non continuità di supporto alle attività, o meglio, un supporto che viene dato, molto sottodata all'evento, che non permette alle organizzazioni, alle associazioni di organizzarsi nei tempi consoni. Le associazioni, diciamo che noi tutti gli anni facciamo la festa del Duca, che puntualmente finanziamo con una variazione di bilancio, perché se volessimo finanziarli con la previsione di bilancio non ci sarebbero risorse, poi per fortuna noi come amministrazione siamo in grado di reperire riforze nuove che vanno inserite in bilancio, ma che questa programmazione è fatta, non si può dire che non è programmata la festa del Duca e non è programmata il Biosalus, per esempio, che è programmata, ma che le risorse provengono magari da entrate straordinarie o da entrate nuove che gli amministratori, io per primo, ma anche tutti gli assessori cercano e quando arrivano le risorse vengono messe a disposizione, non è che possono essere a disposizione prima che vengono a disposizione, scusate il gioco di parole. È chiaro che se noi dovessimo finanziare col bilancio preventivo tutte le iniziative che Urbino ha già in programma, non è che stiamo parlando di cose che si possono scegliere, perché Biosalus è un'iniziativa che è sempre stata fatta da un'organizzazione, non è che adesso noi possiamo dire a chi che sia di organizzare il Biosalus, perché il Biosalus ha un nome e un cognome, quindi come la festa del Duca e come altre iniziative, come Musica Antica, come il Festival Jazz, non è che c'è da fare una scelta preventiva su un bando da fare, perché sono iniziative già della città e che periodicamente tutti gli anni vengono finanziate, ma vengono finanziate con risorse che entrano in corso d'anno, non è che sono entrate prima in bilancio preventivo, quindi credo che sono anche qui polemiche che lasciano il tempo che trovano, ovviamente speriamo che in futuro come amministrazione riusciamo sempre a trovare queste risorse e non è scontato purtroppo.